Teramo e Virtus Lanciano, le prossime due rappresentanti abruzzesi di Lega Pro, si trovano a due stadi diversi della preparazione della prossima stagione. Sicuramente più avanti è il Teramo, che ha avuto modo di fare in tempi congrui tutti i vari passaggi per avvicinarsi alla nuova stagione. Prima il nuovo direttore sportivo nella persona di Fabio Lupo, a fine campionato l'epilogo della gestione tecnica di Vincenzo Vivarini, eventualità di fronte alla quale la società si è fatta trovare pronta, scegliendo in pochi giorni il sostituto Lamberto Zauli. In questi giorni Lupo è al lavoro, a ritmi serrati per l'allestimento della Rosa, risolto il contratto con Diego Cenciarelli, il prossimo della vecchia guardia a salutare sarà Stefano Amadio. Non è ancora detta l'ultima per il difensore Stefano Scipioni, che non è certo l'asciteramo. Lupo farà il possibile per trattenerlo. Intento che sembra essere andato a buon fine per il capitano Ivan Speranza, che resterà al pari dei vari Petrella, Di Paolo Antonio, Caidi e Dorazio. Altra incognita quella legata al portiere Tonti. Sul fronte dell'entrata è fatta per la mezzala Carlo Ilari, ex Sant'Arcangelo, ma di proprietà della Juventus. A buon punto la trattativa per l'attaccante Antonio Croce, ex Celano e Cologna Paese. Intanto è ufficiale la sede del ritiro, sarà Ovindoli, nell'Aquilano, dal 13 al 28 luglio. Sul fronte societario, dopo l'addio di Giuseppe Daniello, il CDA si riduce a due componenti. Presidente Luciano Campitelli, vicepresidente Ercole Cimini, che assume anche la carica di amministratore delegato. Situazione invece tutta da definire in casa Virtus Lanciano. La retrocessione ha lasciato scorie e la famiglia Maio è in una fase di riflessione per capire se, ma soprattutto come, ripartire. La Rosa al momento è ridotta ai minimi termini. Si potrebbe ripartire dai veterani a Mente Bastola e i portieri Casadei Aridità. Andrà sicuramente via il gioiellino Federico Di Francesco, che farà fare cassa con la sua gestione alla Juventus, che poi lo girerà al Bologna. Non c'è ancora l'ufficialità, ma si è conclusa l'era Luca Leone e la casella del DS va riempita. Sono filtrati i nomi come Ivantisci e Alessandro Battisti, ma è in ascesa l'ipotesi Matteo Materazzi, fratello dell'ex difensore dell'Inter Marco. Materazzi, da consulente, potrebbe affiancare Claude Di Menodi Bucchianico, che ricoprirebbe la carica di DS. Poi la scelta dell'allenatore, che prenderà il posto di primo Maragliulo, il quale quasi certamente non resterà in frentagna.